Visti a Zambrotta, questa vittoria cosa significa? Una vittoria importante, credo fondamentale per il cammino per la salvezza contro una diretta concorrente, quindi adesso c'è solo da voltare pagina e pensare esclusivamente alla partita contro il Volen. Hai cambiato un pochettino l'attacco, ho chiedato una bella risposta, quindi questa rotazione sta dando su tutti? No, sia lui, sia Bobo, sia Beriscia, sia Dragan, insomma quelli che sia Davide e Riva hanno giocato una grande partita, tutti i ragazzi hanno giocato una grande gara, quindi sono soddisfatto, tutti i ragazzi sono comunque uniti per lo stesso obiettivo che la salvezza, questo deve comunque essere la cosa principale alla quale dobbiamo pensare da qui in avanti. Forse la sorpresa è stato Davide e Riva dall'inizio oggi, come mai questa scelta? Ma perché comunque Riccardo e Riva avevano avuto un po' di febbre all'inizio della settimana, volevo comunque un centrocampo un pochettino più dinamico e comunque credo che abbia fatto comunque una bella partita. Adesso Volen, come si prepara questa partita? Soltando l'entusiasmo? Beh, con questa vittoria, con il fatto che dobbiamo già pensare domani alla partita contro il Volen, perché hanno vinto contro lo Schaffusa, verranno comunque più agguerriti, quindi sarà una partita molto molto delicata ancora più di questa di Locarno.